In Oliveriana conserviamo l'archivio e la biblioteca di Ercole Luigi Morselli che è stato donato alla biblioteca Oliveriana diversi anni fa dagli eredi del drammaturgo. Una parte di questo archivio compiene e comprende anche un fondo fotografico. Stimolati anche da un finanziamento apposito della Regione Marche sulla catalogazione dei fonti fotografici, abbiamo pensato, oltre alla catalogazione delle fotografie, anche a un evento che potesse mostrare il fondo con quello che contiene. Non potendo fare un'esposizione in presenza per i noti motivi legati alla situazione sanitaria, abbiamo immaginato un'esposizione virtuale e questo è quello che è stato presentato ieri. Il risultato di quello che abbiamo fatto ora è visibile attraverso il nostro sito e invitiamo quindi tutti ad andare a vedere nel nostro sito la ricostruzione che è stata realizzata delle stanze oliveriane, quindi in realtà questa esposizione è anche una passeggiata nelle stanze oliveriane che contengono poi alcune delle fotografie di Ercole Luigi Morselli. Abbiamo appunto pensato a questa forma diversa, per noi anche nuova, così inauguriamo anche un nostro nuovo modo di comunicare attraverso esposizioni digitali che chiaramente non sostituiranno gli eventi in presenza quando saranno possibili, però nel frattempo ci stiamo adeguando e stiamo pensando a nuove forme anche di comunicazione anche per il nostro pubblico vicino e lontano. Sicuramente Morselli è stata una figura molto rappresentativa di una certa drammaturgia di inizio del XX secolo. Per visionare la mostra è necessario accedere al sito istituzionale dell'Entolivieri, l'indirizzo è www.oliveriana.pu.it, dall'home page si accede alla sezione esposizioni virtuali e da lì poi all'esposizione vera e propria, quindi alla possibilità di accedere direttamente all'esposizione. Prima di chiudere però voglio ricordare anche i collaboratori perché chiaramente le cose non si fanno mai da soli e quindi voglio ricordare Arianna Zaffini, l'archivista Arianna Zaffiri che ha curato con me la mostra e si è occupata anche della catalogazione di tutto il fondo fotografico, poi Marco Andreani che ha realizzato l'allestimento digitale e poi voglio ringraziare Lucia Ferrati e Cristian della Chiara che ci hanno regalato un momento di lettura di un brano di Ercole e Luigi Morselli, anche questo visibile attraverso il sito e chiaramente poi Lucia Ferrati va sempre ricordata per il lavoro che ha fatto proprio sull'archivio che noi abbiamo qui in Oliveriana e che ha studiato diversi anni fa e i cui risultati sono visibili in alcune sue pubblicazioni.